taranto ha delle risorse bellissime che forse neanche noi tarantini conosciamo siamo qui al quartiere salinella la meravigliosa guardata oasi della salina piccola sfido chiunque forse pochi tarantini non ripeto nessuno ha conoscenza è un'area fantastica quando si parla di cosa vivono i tarantini se chiude l'ilba io penso che madre natura è stata fin troppo generosa con i tarantini ecco questo sarà un mio impegno se eletto sindaco di valorizzare ogni polmone verde ogni attrattore turistico ogni risorsa davvero in grado di riscattare il nostro territorio è un quadro meraviglioso guardate qui le distese di verde guardate appunto queste zone questi raghetti palustri ed è bellissimo vedere anche varie specie di uccendi appunto che si che passano in un'area in una zona che speriamo sia la più incontaminata possibile per sempre che meraviglia anche questa è taranto questo meritiamo noi tarantini non l'acciaio che uccide